Serie A Unipolzai con il primo pallone che viene giocato dalla formazione napoletana, prima azione d'attacco manovrata con il taglio immediato e con il reverse tentato. Riporta in avanti la generazione vincente Napoli con il pallone che viene fatto girare Sokolowski, porta a passeggio Wiedel, poi va fino in fondo, alza il pallone per Owens che non riesce a tracendo vedere un grande basket, sinora Pistoia mette il muso davanti, dovrebbe essere stata sotto anche di 5 con il settimo punto di Peyton Terry Willis, dall'altra parte la risposta è di Pullen, stesse andando dolce e dolce nella retina, Ennessa, arriva Pullen, un minuto e dieci per finire il secondo quarto, ancora Ennessa, Pullen gli porta un blocco, poi si apre, allora riparte lo schema della formazione napoletana, con pallone!